Ciao da MotolukTV, il canale di Youtube che è sempre in moto per te, io sono Michele e questo è Shoei Neotech 2 Excursion, la mia grafica preferita. Ve la voglio proporre e oggi vi voglio parlare di due particolari tecnici che sicuramente nessuno vi ha mai proposto su questo casco. Shoei Neotech 2 è sicuramente il casco più versatile del catalogo Shoei. È un casco apribile con doppia omologazione, estremamente sicuro. Calotta esterna in IEM realizzata in tre misure. EPS interno a due densità, quindi in grado di assorbire al meglio gli urti. Sistema di chiusura micrometrica in acciaio su acciaio, quindi estremamente robusta. E poi tanto comfort. Visiera ultra wide, predisposta pinlock. Occhiale interno QSV1, un sistema eccezionale, molto molto confortevole. Due intake di aria anteriori e due elementi di uscita posteriori. E poi tutta la comodità degli interni Shoei. Completamente estraibili, lavabili, si possono lavare anche in lavatrice. Sono personalizzabili dopo l'acquisto. E in più sono 100% Bluetooth ready. Quindi si può andare a installare qualsiasi sistema Bluetooth aftermarket. Oppure il sistema SRL di Sena perfettamente integrato nel casco. Ma andiamo a parlare però di due elementi tecnici davvero innovativi. E che sicuramente non conoscete. Il primo riguarda la sicurezza. Ovvero il sistema di movimento della mentoniera. Abbiamo un sistema acciaio su acciaio che si muove sull'asse del casco a 360 gradi. Qual è il vantaggio di questa soluzione? Che con la mentoniera aperta, in caso di caduta, la mentoniera può muoversi in tutte le direzioni lungo l'asse del casco. E quindi non va a creare attrito sulla testa del pilota. Attenzione! Non diventa più fragile il casco. Perché al contrario, quando è chiuso, questa soluzione fa sì che lateralmente questo prodotto sia equiparabile a un casco integrale. Ma una volta aperta la mentoniera, grazie a questo sistema, in caso di caduta, si può muovere liberamente. E quindi non aumentare il danno sulla testa del pilota. Il secondo elemento di cui vi voglio parlare è legato al comfort, e in particolare all'aerodinamica. Shoei già da qualche anno sviluppa i suoi caschi nella galleria del vento. E questo gli ha permesso di attuare delle situazioni che vengono mutuate direttamente dalla Formula 1. Ovvero i vortex generator, i generatori di vortice. A cosa servono? Prima però spieghiamo cosa succede all'aria quando colpisce il nostro casco. Arriva in questo punto, segue la superficie del casco, e poi più o meno a metà va in stallo. Cosa significa? Che non riesce più a essere evacuata dal casco, e comincia a creare dei riccioli, delle vere e proprie turbolenze, che creano diversi tipi di problema. La rumorosità, lo scrollamento del casco, o l'alleggerimento del casco stesso. Quindi tutti i problemi che ci danno tantissimo fastidio quando siamo in moto. I vortex generator a cosa servono? A rimescolare i flussi e renderli omogenei. I vortex generator su questo casco li troviamo in particolare in questo punto, ma anche con queste due scalfiture realizzate qui e qui. Cosa fanno? Quando l'aria arriva qui e tende ad andare in stallo, rimescolano i flussi e fanno sì che l'aria venga convogliata in modo omogeneo verso la parte posteriore, e va a essere liberata dove vogliamo noi, anzi, dove vogliono i tecnici Shoei, qui nella parte posteriore dello spoiler. Quindi massimo comfort. L'aerodinamica è un elemento assolutamente determinante durante il movimento del casco sulla nostra moto, perché un casco da fermo può sembrare comodo, leggero, confortevole, ma è un movimento che fa la differenza. A me piace tantissimo approfondire i dettagli tecnici di un prodotto e sono sicuro che anche voi che mi seguite amate qualsiasi tipo di tecnicità legata all'abbigliamento da moto. Voglio quindi sapere cosa ne pensate anche voi di questo casco, quindi andate sotto nei commenti e scrivetemi assolutamente la vostra opinione. Se il video vi è piaciuto, un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, amici come prima, e come sempre non posso che ricordarvi, provate, provate, provate la qualità dei caschi Shoei, ma soprattutto venite a provarla nel nostro punto vendita Motolook di Voghera. Ciao e al prossimo video!